Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani.San Giovanni e Giulia Stabile si sono lasciati ormai da un po' di tempo ma soltanto adesso emerge la verità su cosa è accaduto . La storia d'amore tra San Giovanni e Giulia Stabile aveva appassionato fin da subito il pubblico di amici, la scuola di Maria De Filippi ha visto nascere parecchie relazioni, ma la loro è stata sicuramente una delle più seguite Dopo mesi dalla rottura emerge una ghiacciante verità.I veri motivi che ci sono dietro la separazione tra Giulia Stabile e San Giovanni non sono mai stati resi noti, ma adesso, a distanza di mesi, viene fuori una verità che ha spiazzato non poco Perché è finita tra Giulia Stabile e San Giovanni, cosa è successo tra gli ex allievi di amici? Tra Giulia Stabile e San Giovanni la storia è finita la scorsa estate, ma soltanto adesso è emersa una verità che ha spiazzato i fan della coppia Il cantante ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo dove ha portato un testo che fa riferimento proprio alla rottura con la ballerina La canzone si chiama Finiscimi e San Giovanni fin da subito ha spiegato che con questa canzone ha voluto raccontare la sua separazione dalla Stabile Per lui è stata una sorta di terapia, aveva spiegato in un'intervista aggiungendo che si esprime e affronta le cose attraverso la musica E con questo testo ha cacciato fuori tutta la sua sofferenza A parlarne è Roberto Alessi su Novella 2000, il direttore ha analizzato il testo, sottolineando come dalle parole usate dal cantante Sivins che sia stato poco carino nei confronti della sua ex Alessi ha riportato le strofe in cui San Giovanni scrive, sono soltanto un bugiardo e ancora fammi sentire quanto sono pessimo Quanto ti ho mancato di rispetto, di rispetto, non dicendoti la verità Tutte parole che lascerebbero intendere un comportamento non del tutto corretto del cantante Il direttore di Novella 2000, infatti, si domame da come sia stato possibile, possibile che un ragazzo di vent'anni così carino come lui sia stato così terribile con Giulia Stabile? Una domanda le cita leggendo il testo che il cantante ha spiegato si riferisce alla sua ex e alla storia avuta con lei Intanto il cantante alla fine del Festival di Sanremo ha annunciato che si sarebbe preso una pausa perché sentiva che si stava perdendo Ha quindi posticipato l'uscita del suo ultimo album e sospeso per ora il suo prossimo tour